Netsha, sempre Amy Weightman di K1, entra all'angolo blu un giornalista di Sky, Paolo Frante! Vai a paolo! Vai a paolo! E ora accorgiamo il suo sfidante, lui è uno studente, entra all'angolo rosso Simone De Angeli! Vai a paolo! Suele. Vai che si può provare. Vai a paolo Sottani. Vai a paolo! Algo! Algo! Quante saltate. Giudi le braccia, Paolo! Giudi le braccia, Paolo! Giuda il vecchio, Paolo, usa il vecchio! Giuda il vecchio! Giuda il vecchio! Stop! Paolo Paoloni, giudi le braccia, Paolo! Chiudi le braccia, Paolo! Giuda il vecchio, in occhio! Vai, Paolo! Tom! E' il tiracchio, e' il tiracchio! 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 E' il tiracchio! E' il tiracchio, 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 e' il tiracchio! E' il tiracchio! E' il tiracchio!